zeppoline di rucola per prima cosa tagliuzzo la rucola e la metto in un contenitore poi metto l'acqua il lievito lo sciolgo nell'acqua poi aggiungo la farina piano piano il sale e continuo ad impastare poi ottenuto un impasto elastico copro e lascio lievitare per tre quattro ore dopo quattro ore aiutandomi con un cucchiaio stacco un po di impasto e friggo fino a doratura in olio di semi di arachidi bollente tolgo facendo sgocciolare e metto su un cola fritto ed eccole qui che delizia buon appetito uova ripiene di tonno faccio bollire le uova per 10 12 minuti poi le sguscio le taglio a metà nel mixer metto i tuorli il prezzemolo il tonno i capperi una ciughina la maionese e frullo tutto poi farcisco le uova aiutandomi con un sac a poche in alternativa con un cucchiaio alla fine metto un po di paprika per colorare ed eccole qui buon appetito questi spiedini sono sfiziosissimi e facilissimi fateli con me iniziamo per prima cosa sovrappongo leggermente due fettine di salame poi le piego in tre e poi arrotolo formando una rosa una volta fatte tutte farcisco gli secchini con tutti gli ingredienti quindi metto una mozzarella lina poi un'oliva una foglia di basilico una rosa di salame un'oliva ancora ancora basilico un'altra rosa di salame e per finire ancora una ciliegina ecco qua ma guardate che belli mamma mia ma lo volete fare un figurone a tavola allora preparate questi coni di parmigiano iniziamo per prima cosa tagliuzzo la rucola aggiungo un filo d'olio un pizzico di sale mescolo e metto da parte grattugio il formaggio e poi inizio a preparare i cestini di parmigiano aiutandomi con la carta forno quindi metto il parmigiano presso un po e faccio cuocere per un paio di minuti fin quando sul fondo il formaggio sarà dorato dopodiché passo sul tagliere e dopo aver fatto riposare per 10-15 secondi tolgo dalla carta forno ed arrotolo formando un cono piuttosto largo tengo in mano per una ventina di secondi e poi appoggio in un calice o in un bicchiere alto a questo punto formo delle rose o quantomeno ci provo arrotolando la bresaula prima dal basso verso l'alto e poi verso il lato poi con una pinza inizio a farcire con la rucola metto a seconda della grandezza del cono una o tre rose filo di glassa di aceto balsamico e guardate qua che spettacolo ricettina d'effetto ed anche molto buona i bambini impazziranno con queste galline di uova sode fatele con me iniziamo per prima cosa metto a bollire le uova per 10 minuti il tempo va calcolato dal momento del bollore poi mentre si raffreddano sbuccio le carote dopo averle private delle estremità sguscio delicatamente le uova per non farle rovinare ed una volta sgusciate tutte tolgo un pezzetto da sotto le uova per far sì che possano mantenersi dritte a questo punto affetto le carote a rondelle e creo la cresta facendo tre triangolini poi incido con il coltello la parte superiore dell'uovo nell'incisione metto la cresta poi con uno dei triangolini ricavati in precedenza creo il becco mettendolo davanti dell'incisione della cresta dopodiché faccio delle leggeri incisioni con la punta del coltello e metto dei granelli di pepe per fare gli occhi ora altra fettina di carota a rondelle ne ricavo prima un triangolo poi tre triangolini riduco un po ed ecco la prima zampetta ora eccole entrambe e guardate qua che belle queste galline che ve ne pare le nostre non sono bellissime perché ci ho messo le mani sarà ma voi potete sicuramente fare di meglio buona pasqua zeppoline di pasta cresciuta con salame d'olive non so che dire fatele con me iniziamo per prima cosa taglio le olive a rondelle poi taglio il salame a striscioline metto l'acqua in un contenitore metto il lievito e lo sciolgo nell'acqua poi metto la farina mescolo metto il sale aggiungo salame d'olive impasto per 7-8 minuti con il cucchiaio oppure con le mani copro e faccio lievitare per almeno 4-5 ore poi mi bagno i polpastrelli con dell'olio stacco dei pezzetti dall'impasto e frigo in abbondante olio di semi di arachidi bollente ci vorranno un paio di minuti per lato affinché diventino belle torate poi le tolgo facendole sgocciolare e mettendole su un colafritto ed eccole qui guardate che belle buonissime